questa è mia eccoci allora terzo tempo Claudio ha preso qualche gol all'inizio poi dopo ha sistemato un po' tutto è forte questo Bambi Team è una bella squadra una bella squadra Simone una bella squadra vi accontentate oggi mancavano anche i pezzi da 90 mi pare comunque è stata una bella partita oggi siamo divertiti lo stesso si è giocato ma all'inizio poi un po' meglio molto meglio molto meglio all'ultimo poi alla fine nessuno non riusciva più a segnare poi come Birilli siete finiti in terra sempre è vero allora diciamo oggi siamo divertiti a pensare non mollavo mai fino all'ultimo ma è vero la giocavo fino all'ultimo è vero sta vice e vice sono forti questo Bambi Team guarda io con loro guarda io con loro vai con loro? se ti prendono Simone c'è un giocatore delle Migrats che vorrebbe venire a giocare con voi siamo pieni hai visto? se ti prendono viti con noi allora viti con noi allora dai in porta diciamo oggi hai fatto anche delle belle parate quasi quasi meglio di Claudio Biondo che è qui stasera ci siamo divertiti è una squadra avversaria ragazzi giovani però noi il nostro abbiamo messo dai certo no no quello diciamo non l'avete sfigurato qualcuno parla però del girone di ritorno allora oggi che partita è stata per te? no è stata una bella partita mi hanno giocato bene con la testa ci siete divertiti bravo bravo termini allora è stata una bella partita hanno giocato bene sì gli avversari sono bravi è vero allora vista insomma da mister a questo punto ci sono delle strategie qui aspettate delle strategie che ho sentito parlare un po' del girone di ritorno si sono osservato tutte le squadre e ora per ora si guai si fa l'osservatore da dentro al campo quindi sono guai per tutti nel secondo girone si studia due si studia tutti allora Marco ci siamo divertiti sì 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 il comportamento è stato inescepibile per tutte e due le squadre corretta tutta esperienza per le prossime partite ma è davvero forte questo bambi team sì è una bella squadra sì 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 si sono piaciuti si incontrò anche in Coppa insomma e sarà visto che diciamo che questi te l'hanno già visti che insomma non sarà proprio un preparato bene bravi ragazzi e complimenti bravissimi allora